Ecco, facciamo dire qualcosa? Sì, sì, assolutamente, per forza. A Marcello. Marcello. Allora, innanzitutto, io devo dire che il tuo look è veramente inadeguato. Ah, grazie. È un festival rock. Tu hai mai visto uno col papillon, è un festival rock? Ma io sai, io prendo esempio dai presentatori precedenti che... Ma veramente, basta non ho altro da dire. Sì, la tastiera, la tastiera è on. Ah, ok. Ladies and gentlemen, Kamala Prince. Allora, scusa, mamma, se sei un gai. Allora, scusa, mamma. Qualche amico che stasera mi si trova sincera, no mamma, torno presto, non ti piace come vesto. Un ritocco alla parrucca, sono certo se cunca. Allora, scusa, mamma, torno presto, non ti piace come vestito, non ti piace come vestito, non ti piace come vestito, non ti piace come vestito. Allora, scusa, mamma, torno presto, non ti piace come vestito, non ti piace come vestito, non ti piace come vestito, non ti piace come vestito. Allora, scusa, mamma, torno presto, non ti piace come vestito, non ti piace come vestito. Allora, scusa, mamma, torno presto, non ti piace come vestito, non ti piace come vestito, non ti piace come vestito. Con le donne c'è storia, si conoscono le nuove, a proposito di donna, di regali e di donna. Scusa la campanita! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.